Viaggiavano con un'autocisterna strapiena di carburante, procacciato a prezzo agevolato e venduto ai distributori stradali a meno della meta del costo. Il mercato nero del gasolio, da cui prende nome l'operazione Oro Nero, regalava in pratica il carburante ai distributori che a loro volta però rivendevano a prezzi stellari. Il tutto senza versare l'IVA. Questo meccanismo ha insospettito il comando provinciale della Guardia di Finanza di Pescara che ha scandaliato l'architettura di un sistema fraudolento in essere lungo tutta la penisola e per il quale sono partite 17 denunce per i reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti oltre che per riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta. Ai vertici di un sistema piramidale c'erano fornitori nazionali e comunitari di petrolio dai quali società cantiere del tutto tarocca e per niente operative rappresentate da prestanome appositamente reclutati nullatenenti e che non hanno mai operato nel settore carburanti. L'argunto meccanismo fraudolento si basava sull'utilizzo di fatture false mentre la differenza veniva di fatto restituita in contanti aggirando così norme fiscali e commettendo un grave danno alle tasche dell'erario. L'attività investigativa Erta su dati incrociati ha permesso alle fiamme gele di Pescara di scovare una materia imponibile pari a più di 207 milioni di euro per univa e vasi a di oltre 45 milioni di euro e intanto procedono al sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente come disposto dalle procure di Lanciano e Velletri di quasi 8 milioni di euro. L'operazione Ronero è un esempio importante di come questo tipo di attività illecite vada a pregiudizio non soltanto dell'erario dei cittadini ma abbia causato una forte alterazione del mercato soprattutto in questo momento in cui pesa sulle tasche di cittadini il caro carburante. 45 milioni di euro che noi adesso attraverso anche attività di carattere amministrativo verifiche e controlli fiscali recupereremo all'erario e recupereremo ai cittadini.